Ormai in tutto il mondo il termine sindone sta ad indicare un lenzuolo di lino lungo e media 4 metri e 42 centimetri e largo 1 metro e 13 centimetri conservato a Torino dal 1578 fino ad oggi sul telo di colore giallo ocra chiaro sono visibili impronte che riproducono l'immagine frontale a sinistra e quella dorsale a destra di una figura umana appaiono inoltre numerosi altri segni e tracce lasciate dalle vicissitudini subite dalla sindone durante la sua storia nell'immagine anteriore si vedono il volto incorniciato da lunghi capelli da una affolta barba il torace e le braccia incrociate sul pube le gambe distese nell'immagine posteriore si vedono la nuca la schiena le gambe distese la pianta dei piedi si notano in particolare due righe nere parallele al lato maggiore segni delle bruciature provocate da un incendio scoppiato nel 1532 nella saint chapelle a chambery dove si trovava a quell'epoca la sindone che era allora conservata ripiegata in una cassetta d'argento le due linee nere strinate sono dovute al contatto con la parete surriscaldata della cassetta durante l'incendio una goccia di metallo fuso caduta sul lenzuolo ne trapassò tutti gli strati distruggendo il tessuto questo spiega il ripetersi simmetrico lungo le due linee nere di numerosi fori a forma di triangolo nella zona centrale del lenzuolo si ripetono più volte delle grandi macchie dai margini frastagliati a forma di rombo si tratta di aloni che sono stati provocati da acqua che ha bagnato il tessuto della sindone in qualche momento della sua storia il volto dell'uomo della sindone presenta numerose lesioni contusive che i medici legali hanno studiato attentamente sono state individuate delle tumefazioni che sembrano potersi identificare con ematomi particolarmente visibili sulla parte destra del volto che si presenta più gonfia di quella sinistra si riscontrano inoltre evidenti segni attribuibili a ferite lacero contuse il setto nasale è deviato a causa di una frattura nel complesso l'uomo della sindone risulta essere stato selvaggiamente percosso nelle ore precedenti la sua morte sulla fronte sulla nuca e lungo i capelli si apprezzano numerose colature di sangue ad andamento sinuoso che sgorgano da ferite da punta di piccolo diametro sono disposte a raggera intorno al capo e sembrano provocate dall'imposizione sul capo stesso di un casco di aculei accuminati particolarmente singolare è la colatura al centro della fronte sgorgata da una ferita della vena frontale che assume la caratteristica forma di tre rovesciato poiché segue l'andamento delle rughe della fronte stessa sulla parte destra del petto spicca una grande chiazza di sangue che fuoriesce da una ferita di forma ovale provocata da un oggetto appuntito e tagliente che ha colpito tra la quinta e la sesta costola e che è penetrato in profondità le caratteristiche di questa ferita sono importanti in quanto mostrano che essa fu inferta dopo la morte del soggetto anche il sangue che ne sgorga si presenta circondato da un alone sieroso come avviene per il sangue uscito da un cadavere in cui si è già separata la parte sierosa da quella corpuscolata sull'immagine anteriore della sindone sono ben identificabili le impronte lasciate dagli arti superiori le braccia sono distese mentre le mani si incrociano a livello del pube su entrambi gli avambracci sono visibili lunghe colature di sangue che partono dai polsi per risalire sino all'altezza del gomito il loro andamento appare innaturale in quanto sembrano correre verso l'alto bisogna invece pensare che si tratta di colature di sangue formatesi quando il corpo era appeso alla croce e pertanto i polsi si trovavano più in alto dei gomiti sul polso sinistro è ben visibile una caratteristica chiazza di sangue formata da due colature divergenti il sangue fuoriesce da una ferita di forma ovale provocata da uno strumento da punta quale un chiodo particolare è la localizzazione di tale ferita che non si presenta nel palmo della mano come viene raffigurata nella tradizione iconografica della crucifissione ma nel polso da rilevare l'assenza dell'immagine dei pollici sulla sindone che potrebbe essere dovuta all'interessamento del nervo mediano o a una contrazione tetanica la cute del torace e del dorso presenta oltre un centinaio di ecchimusi escoriate consistenti in figure tondeggianti e abbinate lunghe circa due centimetri visibili anche sugli arti inferiori sembrano lesioni provocate dal flagello strumento romano di tortura costituito da un manico di legno da cui si dipartono delle corde al termine delle quali sono fissati dei piccoli piombi a forma di manubrio è difficile stabilire il numero di colpi di flagello inflitti poiché non si conosce il numero di corde del flagello è invece certo che il supplizio venne inferto a schiena curva e sul corpo nudo all'altezza della zona scapolare sinistra e sovrascapolare destra si osservano delle ecchimusi a forma quadrangolare riferibili ai segni lasciati da un oggetto pesante e ruvido che può essere identificato con il patibulum l'asse orizzontale della croce che a volte il condannato portava su di sé fino al luogo dell'esecuzione infine all'altezza delle reni si osserva una colatura di sangue trasversale che attraversa tutto il dorso si tratta del sangue sgorgato dalla ferita al costato qui defluito quando il cadavere una volta deposto dalla croce è stato messo in posizione orizzontale gli arti inferiori dell'uomo della sindone sono ben individuabili sia nella figura anteriore che in quella posteriore entrambe le ginocchia presentano delle escoriazioni molto probabilmente dovute a cadute poiché in queste zone come sulle piante dei piedi sono state individuate tracce di terriccio da notare ancora che il ginocchio sinistro è stato fissato dalla rigidità cadaverica in posizione più flessa rispetto al destro e perciò l'arto sinistro risulta nell'immagine più corto la pianta del piede destro è nitidamente impressa mentre del sinistro è visibile solo la parte posteriore in prossimità del tallone ciò suggerisce che la crocifissione sia venuta utilizzando un solo chiodo e sovrapponendo il piede sinistro al destro sulla pianta di quest'ultimo si nota il foro di uscita del chiodo da cui si dipartono dei rivoli di sangue che scendono verso le dita le impronte corporee che si vedono sulla sindone sono scure in corrispondenza a zone in rilievo mentre sono chiare nelle altre l'immagine si presenta quindi con una distribuzione di luminosità opposta a quella che percepiamo nella realtà l'impronta si comporta pertanto come un negativo fotografico trasformando l'immagine della sindone nel suo negativo fotografico invece i chiaroscuri sono ovviamente invertiti e pertanto in esso appare il vero aspetto dell'uomo della sindone come potremmo osservarlo se si trovasse di fronte a noi prego buongiorno possiamo iniziare sì allora anzitutto vi ringrazio molto a nome del presidente gargonio e dell'ambrosaneum per questa vostra presenza avevamo programmato l'evento ormai più di un anno fa nella nostra bella sede a milano vicino al duomo purtroppo non è stato possibile ma io credo che anche questo sistema degli eventi a distanza è molto utile perché perché il numero di persone che possono raggiungerci e sentirci è decisamente alto abbiamo avuto negli eventi scorsi una un un tasso di ascolto veramente alto e questo argomento della sindone è un argomento che senz'altro richiama l'attenzione di moltissimi i professori anziani purtroppo non è con noi per motivi familiari e mi ha mandato una breve sintesi ma io vi dico i punti essenziali della sua introduzione chiaramente il professore anziani si riferisce al racconto evangelico e cerca di trovare come penso verranno fatti altri altri relatori oggi un parallelismo tra il racconto evangelico e quello che vediamo nell'uomo della sindone per i credenti la sindone è innanzitutto un'icona cioè un riferimento spirituale che va letto con gli occhi della fede ma che cosa ne pensa la scienza cosa ne pensa la la storia cosa ne pensa l'archeologia è un po il motivo diciamo di questo convegno di sentire quello che la scienza la storia e l'archeologia ci racconta sull'uomo della sindone ci sono diversi aspetti che verranno discursi degli aspetti che riguarda anzitutto la data la datazione della del lenzuolo a questo proposito credo che ci sarà anche un breve intervento del professor di lazaro che ho visto che ha scritto molto sulla datazione poi ci sono altri aspetti importanti i pollini e sono dell'epoca o sono stati recenti chi lo sa e poi il problema anche medico molte cose sul piano medico sono state dette raccontate nel breve filmato che abbiamo visto ci sono degli aspetti di ordine medico legale per esempio il sangue sentiremo il sangue è stato determinato il gruppo sanguigno sono tutte cose che la scienza medica oggi con i nuovi sistemi ci può raccontare un'ultima cosa prima di passare la parola ai relatori e il professor anziani sottolinea il parallelismo tra sindome e vangelo e secondo lui è un parallelismo straordinario in tanti particolari che sono stati descritti nei vari evangeli da luca da luca da giovanni da matteo eccetera la tradizione cristiana ha fornito leggo al momento del suo incontro con la sindone una propria risposta quella che la scienza non può dare è certo che è un'immagine che non lascia indifferente nessuno sono le parole del cardinal ballestrero arcivescovo di torino e custode della sintone è un'immagine che emoziona che sorprende e che suscita interrogativi profondi è un argomento che ci entusiasma ma soprattutto a mio parere ci emoziona in questo periodo periodo quaresimale leggeremo nella prossima settimana la passione di gesù e allora ci verrà in mente questo racconto della sindone e ci verranno in mente quello che diranno i relatori oggi allora io incomincerai subito invitando il professor de lazzaro che credo che faccia io non lo vedo dovrebbe comparire no ci sono sono qui ai qui a ecco lo vedo professor di lazzaro se vuole introdurre un po lei è un grande esperto io ho letto molto in questi giorni di quello che ha scritto e se ci vuol dire qualcosa come introduzione a questo convegno grazie professor lambertenghi in realtà è la parte diciamo la parte scientifica delle ultime ricerche sarà presentata dal professor barberis tra pochi minuti io oggi mi limito a portare i saluti del centro internazionale di studi sulla sindone che è stato costituito nel dicembre del 1959 quindi sono diversi anni che opera i scopi del centro sono innanzitutto scientifici il coordinamento degli studi sulla sindone impegno alla sua conoscenza e la raccolta e conservazione di tutto quanto concerne la sindone la missione del centro non è quella di essere un mero difensore dell'autenticità della sindone poi anche sul concetto di autenticità ci sarebbe molto da discutere ma è di affrontare in modo critico gli studi sulla realtà del reperto sempre salvaguardando la multidisciplinarietà è straordinario il fatto che nello studio della sindone si siano accostati così tante discipline scientifiche i studiosi della sindone infatti sono chimici, fisici, storici, fotografi, biologi che si interrogano sulla sindone e sono esperti di specifiche branche del sapere che applicano i metodi e conoscenze all'indagine del reperto non con l'intento di certificarne la cosiddetta autenticità ma con lo scopo di approfondire le caratteristiche e possibilmente l'origine della sindone per questo motivo il CIS si è dotato di una commissione scientifica internazionale composta da membri i cui requisiti sono comprovata competenza nel proprio dominio di ricerca e la completa libertà interiore da preconcetti e condizionamenti verso un esito predeterminato sia esso l'affermazione o la negazione dell'appartenenza della sindone al corredo funerario del Cristo l'attività del CIS che è l'unico centro al mondo ad essere ufficialmente riconosciuto dal custode pontificio della sindone a cui presta la propria attività di consulenza si sviluppa anche attraverso scambi e contatti con ricercatori e istituti di ricerca di tutto il mondo organizzando e partecipando ai convegni e affiancando all'impegno prettamente scientifico anche una notevole attività di divulgazione ed è in questo ambito che va inquadrata la giornata odierna di cui ringrazio Ambrosianium per l'ospitalità io la mia brevissima introduzione l'ho terminata passo di nuovo la parola al professor Lambertenghi che coordina un pochino questa giornata grazie grazie professor Di Lazzaro io comincerei allora con il professor Bruno Barberis che è professore associato di fisica matematica all'università degli studi di Torino nel 1975 il professor Barberis ha iniziato ad occuparsi della sindone dal punto di vista della ricerca scientifica e dal 77 è membro della confraternita del Santissimo Sudario di Torino e del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino prego professor Barberis ringrazio il professor Lambertenghi per la sua presentazione ringrazio la fondazione Ambrosianium per aver organizzato come è stato detto all'inizio nonostante tutte le difficoltà di questa situazione questo convegno e io mi auguro che si possa ripetere nel prossimo anno un evento simile ma non più a distanza ma nella vostra meravigliosa sedi di Via delle Ore bene incomincio condividendo le slide che ho preparato bene la sindone è un telo conservato da quattro secoli e mezzo nel Duomo di Torino e come tutti sappiamo secondo un'antichissima tradizione è il lenzuolo funerario nel quale fu avvolto il corpo di Gesù dopo la deposizione dalla croce come ci testimoniano molte documentazioni pittoriche e artistiche del passato sulla sindone si vedono tracce di vari tipi bucchi, bruciature, macchie d'acqua, gocce di cera ma soprattutto come è stato visto nel filmato introduttivo la doppia impronta di un corpo umano di colore ocra costellata da macchie di colore rosso carminio e pertanto penso che è facile da comprendere un oggetto piuttosto complesso che ha bisogno di essere osservato e studiato attentamente per riuscire a comprenderlo a fondo la ricerca scientifica sulla sindone ha avuto inizio solo nel 1898 dopo che la prima fotografia scattata da Secondopia con questa macchina oggi conservata a Torino al Museo della Sindone non solo rivelò la caratteristica e sorprendente negatività dell'immagine su di essa impressa ma consentì un esame dettagliato sia del telo sia dell'immagine stessa in realtà però sono solo gli ultimi 50 anni che hanno visto ricerche e studi coordinati ad ampio spettro senza alcun dubbio l'evento più importante e significativo risale al 1978 quando dall'8 al 13 ottobre la sindone venne esaminata da un'equipe internazionale composta da 44 scienziati la maggioranza dei quali appartenenti all'associazione statunissense STURP lo Shroud of Turing Research Project che effettuò una serie complessa di esami e di prelievi per un totale di 120 ore consecutive i risultati di tali esami vennero poi pubblicati negli anni successivi e senza alcun dubbio costituiscono ancora oggi l'asse portante delle moderne conoscenze sulla sindone suddividerò la mia analisi in tre sezioni corrispondenti ai tre principali campi di ricerca il tessuto della sindone l'immagine della doppia figura umana impressa sul telo e terzo le macchie matiche la sindone è un telo di lino di antica fattura come ha detto il filmato lungo circa 4 metri e 41 centimetri e largo circa 1 metro e 13 centimetri tessuto con fili intrecciati a spine di pesce si è stimato che il peso per unità di area è di circa 20 milligrammi per centimetro quadrati e quindi in totale la sindone pesa circa un chilogrammo lo studio radiografico effettuato nel 1978 il 1978 integrato con la registrazione degli spettri di fluorescenza ai raggi X ha consentito di evidenziare la presenza sul telo di ferro, calcio e stronzo in particolare le concentrazioni di questi elementi in particolare il ferro sono risultate essere costanti sia nelle zone con immagine sia in quelle che ne sono prive e pertanto la loro presenza sembra dover essere collegata con la lavorazione del lino e in particolare con la sua macerazione in acqua uno degli argomenti, dei problemi più dibattuti ormai da lungo tempo ma in particolare in questi ultimi 30 anni è quello della datazione del tessuto della sindone e già Willard Libby, l'inventore del metodo della radiodatazione il cosiddetto metodo del carbonio 14, del C14 una settantina di anni fa aveva proposto di effettuare una serie di misure sul tessuto sindonico ma il progetto era sfumato a causa dell'eccessiva quantità di campione da utilizzare all'epoca o poi con l'affinamento delle tecnologie di misura e con la conseguente diminuzione della quantità di campione necessaria e che per questo tipo di analisi richiede la sua distruzione nuovi progetti sono stati presentati nella seconda metà degli anni 80 dello scorso secolo alcuni di questi proponevano l'esecuzione concertata di prelievi di misure di radiodatazione e di tutta una serie di accertamenti in parallelo fatti sui campioni prelevati atti ad evitare errori e a fornire una conoscenza corretta e dettagliata del telo sindonico purtroppo però a causa della netta opposizione da parte dei laboratori incaricate dell'operazione di datazione il progetto ad ampio spettro non andò in porto il 21 aprile 1988 un campione di tessuto venne prelevato da un unico sito posto nell'angolo in alto a sinistra del telo sindonico e a ciascuno dei tre laboratori incaricati, quello di Oxford, quello di Zurigo e quello di Tucson in Arizona fu consegnato un campione di sindone del peso di circa 50 mg unitamente a tre campioni di controllo di età nota il 13 ottobre di quell'anno in una conferenza stampa il cardinale Anastasio Ballestrero, allora arcivescovo di Torino e custode pontificio della sindone comunicò che in base ai risultati ottenuti dai tre laboratori il tessuto della sindone risaliva, risultava radiodatato ad un periodo compreso fra il 1260 e il 1390 d.C. la comunicazione ufficiale dei laboratori apparve poi sulla prestigiosa rivista scientifica Nature nel febbraio dell'anno seguente ben presto si scatenò un coro di discussioni e di contestazioni intorno all'intero programma di datazione alimentato purtroppo da una lunga serie di leggerezze e di imprudenze e in alcuni casi anche da comportamenti poco corretti da parte dei responsabili dell'operazione un importante elemento di cautela nell'accettazione acritica dei risultati ottenuti riguarda le modalità di prelievo del campione stesso e la carenza di esami multidisciplinari quelli a cui facevo riferimento prima atti ad accertare il tipo e la quantità di sostanze strane presenti sui campioni esaminati due chimici americani Alan Adler qui raffigurato in foto e Raymond Rogers analizzarono un filo residuo del campione sindonico utilizzato per la radiodatazione e scoprirono che presentava caratteristiche fisiche differenti rispetto al complesso del telo sindonico eppure il suo spettro infrarosso risultò anch'esso diverso secondo Rogers eccolo qui nella foto a sinistra risulterebbero evidenze per pensare che il sito dal quale fu prelevato il campione sia stato sottoposto nel passato ad un rammendo esteriormente invisibile e che pertanto la data misurata corretta da un punto di vista strettamente sperimentale non corrisponderebbe alla vera età della sindone risulta tra l'altro che durante l'operazione di prelievo sia stato necessario eliminare una parte del campione per l'evidente presenza di sostanze estranee e comunque è chiaro che il prelievo effettuato in un solo sito rischia di fornire dati omogenei tra loro certamente ma non rappresentativi dell'intero oggetto in esame nel 2010 l'esperto di statistica Marco Oriani effettuò approfondite analisi statistiche sui dati pubblicati dai tre laboratori analisi che dimostrarono l'esistenza di un'anomala variazione spaziale dell'età dei dodici pezzetti di lino datati quattro per ciascun laboratorio in altre parole si è scoperto che l'età aumenta costantemente mano a mano che ci si sposta da un pezzetto all'altro adiacente andando verso l'interno della sindone si tratta di un fatto anomalo che suggerisce la presenza di una consistente contaminazione che può aver falsato i risultati evidentemente la pulizia preliminare dei campioni di tessuto che sono stati analizzati non è stata in grado di rimuovere tutte le sostanze contaminanti l'analisi statistica è premisa inoltre di dimostrare che uno dei due lembi dati al laboratorio di Taxon non venne datato contrariamente a quanto dichiarato invece nell'articolo pubblicato su Nature alla fine del 2010 il responsabile di tale laboratorio pubblicò un articolo in cui mostrava per la prima volta la foto del campione di Sindone ricevuto dal suo laboratorio e dichiarando così ufficialmente di non averlo mai usato e conseguentemente la quantità di tessuto realmente datata dal laboratorio di Taxon non era sufficiente per ottenere una datazione affidabile e quindi la loro datazione avrebbe dovuto essere scartata ma non lo fu nel 2017 una richiesta legale europea di accesso agli atti amministrativi nel Regno Unito ha obbligato il British Museum coordinatore dell'operazione di datazione della Sindone a rivelare i dati grezzi cioè quei dati non ancora mediati ed elaborati dopo che per ben 29 anni ogni richiesta in merito era stata sempre rifiutata l'analisi statistica di tali dati grezzi ha dimostrato che il livello di confidenza del 95% dichiarato in quell'articolo pubblicato su Nature dai laboratori non è assolutamente accettabile perché i dati contengono gravi incongruenze tra i risultati ottenuti dai tre laboratori probabilmente a causa di quei contaminanti non rimossi dalle operazioni di punizia preliminare a cui ho già accennato in base quindi ai risultati ottenuti i laboratori avrebbero dovuto dichiarare la non attendibilità dell'operazione di datazione e richiederne la ripetizione su nuovi campioni ma come ben sappiamo non lo fecero i risultati della radioadattazione sono tuttora oggetto di un ampio dibattito tra gli studiosi circa l'attendibilità dell'uso del metodo del radiocarbonio per datare un oggetto con caratteristiche storiche chimico-fisiche così peculiari come la sindone ma sta di fatto che attualmente è l'unico che abbiamo a disposizione in grado di fornire risultati di un certo rilievo studi effettuati su antichi tessuti hanno ulteriormente riaperto il dibattito scientifico sull'adattazione della sindone fornendo risultati sperimentali che sembrano proprio provare che contaminazioni di tipo biologico, chimico e tessile sono in grado di alterare considerevolmente l'età radiocarbonica di un tessuto pertanto, concludendo al momento attuale il problema dell'adattazione del tessuto sindonico risulta del tutto aperto e non ancora risolto un ulteriore contributo allo studio del tessuto è stato dato dalle ricerche effettuate negli anni 70 dello scorso secolo dal botanico sfizzero Max Frey-Sulzer che sia nel 1973 sia nel 1978 effettuò sulla sindone mediante l'applicazione di nastri adesivi alcuni prelievi di microtracce rinvenendo granuli di polline provenienti da 58 diverse piante fiorifere poiché alcuni di essi provengono da piante che crescono solo in Palestina e Anatolia Frey concluse che è altamente probabile la permanenza prolungata della sindone oltre che in Europa anche in tali regioni permanenza che ovviamente non può che essere avvenuta prima della comparsa della sindone in Europa verso la metà del XIV secolo Passiamo ora allo studio dell'immagine corporea che si vedono sulla sindone Ora, precisiamo che con immagine sindonica si intende naturalmente identificare quelle ben precise zone della sindone nelle quali è visibile l'immagine di un corpo umano in vista frontale e dorsale zone che, come avete visto anche nel filmato, si differenziano nettamente dalle cosiddette zone ematiche L'immagine è priva di contorno e appare come quella di uno sfumato L'esame microscopico di tali zone rivela che essa è dovuta ad un ingiallimento delle fibre superficiali dei fili di lino che la costituiscono Le fibre costituenti e i fili risultano colorati in giallo solo se poste sulla parte superiore del filo Nelle zone di intersezione dove il filo passa al di sotto degli altri non si rileva alcuna colorazione Tali osservazioni evidenzano naturalmente l'estrema superficialità dell'immagine che è di un ordine di grandezza inferiore al micrometro, cioè al millesimo di millimetro Superficialità che è stata confermata nel 2002 dall'analisi del retro della sindone effettuato in occasione dell'intervento conservativo del tessuto In tale occasione si è potuto constatare che sul retro della sindone l'impronta corporea è del tutto assente Come si vede bene in questa immagine dove in alto si vede la parte anteriore del telo con l'impronta corporea e con le macchie matiche In basso la parte posteriore, il retro della sindone, le macchie matiche sono ancora visibili ma l'impronta corporea no Si può pertanto escludere definitivamente l'ipotesi che l'impronta possa essere dovuta ad un colorante o a un pigmento di qualsiasi natura perché tale colorante avrebbe impregnato il tessuto per una profondità di gran lunga maggiore Numerose sono state fino ad ora le ipotesi teoriche formulate al fine di spiegare la modalità con la quale si è formata l'immagine Così come numerosi sono stati i tentativi sperimentali per riprodurla con le tecniche più diverse, più svariate In questa immagine vediamo ad esempio il risultato di uno degli esperimenti compiuti dai medici legali Ruggero Romanese e Giovanni Giudica Cordiglia negli anni 30-40 dello scorso secolo utilizzando tele imbevute di soluzioni di trementine di olio d'oliva messe a contatto con volti di cadaveri cosparsi di una miscelia polverosa o di una soluzione acquosa di aloe mirra Pertanto il complesso dei risultati sperimentali consentono di escludere l'ipotesi che si tratti di un dipinto e quindi le ricostruzioni pittoriche di immagini su telo come quella effettuata nel 2009 dal chimico Luigi Garlaschelli la vediamo qui a sinistra confrontata con la sindone, non sono coerenti con l'immagine sindonica perché possedono caratteristiche chimico-fisiche totalmente differenti Inoltre la non fluorescenza dell'immagine impedisce di pensare che si possa essere formata per il riscaldamento del telo nei punti di contatto con un basso rilievo opportunamente riscaldato come aveva ipotizzato il medico Vittorio Delfino Pesce negli anni 80 dello scorso secolo Lo studio dell'impronta mediante spettroscopia infrarossa effettuato sempre nel 78 dagli studiosi dello Sturp ha fatto supporre che l'immagine sia dovuta ad un fenomeno di ossidazione e disidratazione delle fibre superficiali del lino molto più intenso rispetto a quello naturale delle altre zone del tessuto Alcuni studiosi, in tempi recenti i francesi Rino Do, gli italiani Moroni, Barbesino, Fanti e altri ancora hanno ipotizzato che l'immagine si sia potuta formare a causa dell'interazione con il tessuto di radiazioni di vario tipo raggi ultravioletti molli, radiazioni nucleari, flussi di neutroni e di protoni, intense scaliche elettriche, ecc. Tali ipotesi non trovano però riscontro in fenomeni naturali che ne potrebbero essere stati le cause Uno studio assai interessante è quello che è effettuato in questi ultimi vent'anni presso il centro Enea di Frascati da un'equipe di ricercatori guidati da Paolo Di Lazzaro In tali esperimenti è stato dimostrato che un brevissimo e intenso lampo di radiazione nel vicino ultravioletto generato ad esempio da un laser a decimeri può colorare un tessuto di lino in modo da riprodurre molte delle peculiari caratteristiche dell'immagine sindonica come ad esempio la tonalità del colore e la superficialità della colorazione come si vede bene in queste immagini e per di più anche l'assenza di fluorescenza tutte caratteristiche comuni alla immagine corporea della sindone Un altro importante contributo allo studio delle caratteristiche dell'immagine sindonica è stato dato dalla sua elaborazione al computer nel 1977 due scienziati statunitensi John Jackson e Derek Jumper sottoposero per la prima volta di elaborazione elettronica l'immagine della sindone scoprendo che essa contiene in sé caratteristiche tridimensionali che non sono possedute né da dipinti né da normali fotografie Un anno dopo un'equipe di studiosi dell'Università di Torino guidata da Giovanni Tamburelli ottenne indipendentemente dagli studiosi americani immagini tridimensionali ad alta definizione unitamente ad un'immagine del volto priva delle ferite e delle colature di sangue e ricavando in tal modo questa immagine che rappresenta il volto reale dell'uomo della sindone prima della tortura qualche anno dopo Tamburelli e Nello Balossino effettuarono l'elaborazione elettronica in parallelo del volto dell'uomo della sindone e delle principali icone del volto di Gesù risalenti al primo millennio dell'era cristiana evidenziando un altissimo numero di punti di similitudine di punti equivalenti tali da far ritenere molto probabile l'ipotesi che il volto dell'uomo della sindone sia stato il prototipo dell'iconografia cristiana perlomeno a partire dal VI secolo dopo Cristo ovviamente Concludendo, tutte le teorie proposte fino ad oggi per spiegare il metodo di formazione dell'immagine sono sempre risultate carenti o perché non sono state corredate da verifiche sperimentali serie o perché tali verifiche hanno evidenziato sulle immagini ottenute caratteristiche fisico-schimiche molto diverse da quelle possedute dall'immagine sindonica e quindi non sono adatte a spiegare il suo metodo di formazione Pertanto il processo che ha causato la formazione di tal'immagine rimane ancora non noto e per giungere alla sua identificazione saranno necessari ulteriori studi sia teorici sia sperimentali E infine passiamo alle macchie ematiche Si vedeva molto bene nel filmato che accanto all'immagine corporea sul telo sono visibili anche ad occhio nudo varie macchie tradizionalmente classificate come macchie di sangue o zone ematiche All'esame microscopico Qui vediamo ad esempio le mani e gli avambracci dove le macchie di sangue sono piuttosto consistenti All'esame microscopico esse appaiono, a differenza dell'immagine, costituite come si vede in questo ingrandimento un complesso sistema che ha penetrato le fibre verso l'interno Infatti tali macchie sono perfettamente visibili anche sul retro della sindone ovviamente in corrispondenza a quelle presenti sul fronte Il colore varia da sito a sito, da bruno a rosso fino all'arancio Questa variabilità è da collegarsi alla presenza di miscele in fase solida di meta-emoglobina che sono di colore bruno e di suoi prodotti di degradazione quali il bilidiene e la bilirubina Le fotografie in fluorescenza pongono poi in rilievo che le macchie di sangue si presentano come sistemi scuri non fluorescenti però spesso circondati da un alone fluorescente Il fenomeno è soprattutto visibile dove si osservano delle colature di sangue ed è probabilmente dovuto a zone marginali dove è presente solo siero che per il suo contenuto proteico ovviamente è fluorescente E' importante notare a questo proposito che dove è presente la macchia ematica sulle fibre di tessuto non si rivela traccia di immagine sindonica Dobbiamo quindi supporre che sul lenzuolo si sia depositato dapprima il materiale ematico e in un secondo tempo si sia formata l'immagine e quindi dove c'è il materiale ematico non ha potuto colorare le fibre di tessuto L'esame degli spettri di fluorescenza e raggi X ha permesso di rilevare nelle zone ematiche concentrazioni di ferro fino a 58 microgrammi per centimetro quadrato La concentrazione risulta più elevata rispetto ad altre zone ovviamente perché può essere facilmente collegata con la presenza di sangue La ricerca di proteine è risultata positiva solo nelle zone ematiche e quindi negative in tutte le altre zone e anche questo dato è significativo Interessanti sono poi i risultati ottenuti dal medico legale torinese Pierluigi Balma Bollone che su campioni prelevati in zone ematiche nel 1978 ha potuto rilevare la presenza di sangue umano di tipo AB mediante il metodo delle reazioni di immunofluorescenza specifica con antiglobuline umane E concludiamo con un brevissimo cenno alle prospettive future di ricerca In questi ultimi vent'anni sono pervenuti a Torino da scienziati da tutto il mondo nuove proposte, nuovi progetti di ricerca che sono stati poi sottoposti all'esame di una commissione internazionale di esperti allo scopo di valutare la possibilità di avviare nel futuro una nuova campagna coordinata di studi e di ricerche dirette sul Telo Tutto il materiale raccolto in questa analisi è stato consegnato alla Santa Sede proprietaria della Sindone e sarà la Santa Sede stessa a decidere se e quando avviare una nuova campagna di ricerche dirette sulla Sindone che ovviamente dovrà avere come obbligato punto di partenza lo stato attuale delle conoscenze e due scopi fondamentali Primo, verificare definitivamente i risultati ottenuti fino ad ora e fornire valutazioni oggettive sulle varie ipotesi proposte Secondo, in particolare, sulle modalità di formazione dell'immagine e sulla datazione del Telo Le tecniche da utilizzare sono da scegliere ovviamente tra le più recenti e soprattutto le più affidabili, purché non distruttive Non è un'operazione semplice da progettare, soprattutto da realizzare poiché praticamente si tratta di costruire un moderno laboratorio scientifico attorno alla Sindone per raccogliere la maggiore quantità possibile di dati che dovranno poi essere elaborati e analizzati da una qualificata Commissione Scientifica Internazionale Pertanto la nuova e affascinante sfida che la Sindone lancia alla scienza per questo terzo millennio da poco iniziato è già partita e sono certo che nei prossimi anni darà frutti di grandi interessi Grazie per la vostra attenzione Grazie, professor Barberis Soprattutto per questa relazione molto equilibrata, realistica Io ho una breve domanda, professor Barberis Grazie a domanda da medico Ci sono stati degli studi sul DNA? Allora, gli studi sul DNA sono stati limitati ad alcuni tracce di campioni avanzati dagli studi relativi al sangue dopo il 1978 quindi su un materiale non prelevato in modo specifico per effettuarli e gli studi hanno dato risultati, come era prevedibile, non significativi perché sono stati ritrovati DNA di diverse origini sia di sesso maschile sia di sesso femminile Ovviamente per manipolazioni Non è stata manipolata da chissà quante centinaia di migliaia di persone L'hanno toccato, eccetera Nel passato ovviamente non avevano le precauzioni che abbiamo oggi nel toccarla e nel manipolarla Quindi bisognerebbe fare dei prelievi specifici ad hoc al fine di ridurre questa indeterminazione Teniamo però sempre presente che non è materiale recente e di conseguenza ci sono dei limiti notevoli così dicono gli esseri di materia Io come matematico non sono esperto Per cui le informazioni che si possono dedurre allo stato attuale delle conoscenze non sono così tali da dare dei dati significativi e nuovi E delle risposte definitive Esatto Grazie mille Professor Zaccone, Gian Maria, direttore del Centro Internazionale di Studi sulla sindrome di Torino Il professor Zaccone si occupa della sindrome da oltre 30 anni interessandosi particolarmente della ricerca storica E' autore di libri e numerosi articoli di carattere storico Ha tenuto centinaia di conferenze in Italia e all'estero Prego, professor Zaccone Deve accendere Ecco, ringrazio anch'io l'Ambrosianeum per questa occasione Ricordo ancora con piacere l'occasione precedente che avemmo di incontrarci Anch'io faccio voti per tanti motivi Non solo per questo, insieme a Bruno Barberis Perché un altro anno si possa di nuovo di persona Vederci e approfondire l'argomento Bruno Barberis ha fatto una panoramica su quella che è la ricerca scientifica Sulla sindone, che è un aspetto interessante Molto interessante Ci si rende conto che accostarsi alla sindone E' sempre molto delicato E per alcuni versi è difficile Difficile perché si rischia di rimanere imbrigliati Impastoiati nel problema della cosiddetta autenticità Che poi è un termine che in campo ecclesiastico relativo alle reliquie E' usato da sempre anche se non esistono delle definizioni precise in merito Ovviamente tutta la normativa che è proceduta negli anni Si è sviluppata fino all'attuale codice di diritto canonico Dà delle procedure per questa autenticazione Che riguarda soprattutto le reliquie dei Santi Che è quella di cercare di collegare in maniera certa La reliquia con il soggetto a cui essa fa riferimento Con tutta una serie di problematiche che riguardano soprattutto Le reliquie di antica devozione Bisogna poi fare ancora una differenza Tra il concetto di autenticità E il concetto di presentazione al culto Nel caso della sindone Questa questione dell'autenticità Credo che sia uno dei problemi Che poi viene sollevato quasi immediatamente Quando se ne parla Ed è diventata E uso un termine non mio Ma di una studiosa francese O di Lesselliers Che peraltro è una storica E non favorevole Alla origine cristica della sindone Diceva che è diventata Una specie di ossessione In effetti A volte questa ossessione Acceca anche L'oggettività Della ricerca Nei confronti della sindone Ci sono tante posizioni Io credo Possiamo cercare di Vederne tre E poi capiremo Il ruolo della storia In questa problematica Molti considerano la sindone Una reliquia Anzi la più significativa Delle reliquie Del passaggio di Cristo In terra Su cui Sulla quale è impressa La vera immagine Di Cristo Impreziosita dal suo stesso sangue Questo poi porta altri Ancora più teriammerariamente Nel voler trovare In questa immagine Le tracce fisiche Della sua gloriosa risurrezione Dall'altra parte C'è chi la bolla Come un falso Più o meno antico E anche sul termine falso Dovremmo interrogarci Non meritevole Di alcun interesse O al massimo Degno di comparire In un ipotetico museo Dei grandi inganni Della storia Queste due posizioni Sono poi alla fine Due facce Della stessa medaglia Perché per gli uni La sindone va esposta In quanto È autentica Per gli altri La sindone dovrebbe essere Ritirata In quanto Certamente Non autentica Io continuo a usare Questo termine autentico Anche se ripeto Non è totalmente soddisfacente La nostra ricerca Direi che Al momento È orientata a capire L'origine Di questo Oggetto Poi c'è una terza posizione Che In cui Le persone Prescindendo Dalle proprie Convinzioni personali Circa la sua origine Sottolineano L'importanza Di un oggetto Il cui Innegabile Rimando Alla passione Di Cristo Come si diceva Nella relazione Iniziale Ai Vangeli Ne fa Una realtà unica Dal punto di visto Religioso Con Enormi potenzialità Pastorali E spirituali Ma anche Capace Di sollecitare L'intelligenza E l'intervento Di studiosi Di tantissime discipline Questo non vuol dire Eludere Il problema Della sua origine Ma vuol dire Ridimensionarlo E dargli Il suo ruolo Queste posizioni Io ho cercato Di sintetizzarle Chiaramente a volte Si compenetano Una nell'altra Si confrontano Molto spesso Si scontrano A testimonianza Anzi in ogni caso Del fatto che La conoscenza Della sindone Non lascia Indifferenti Devo dire Che in certi momenti Le contrapposizioni Relativamente Alla sindone Diventano Talmente forti E talmente Insostenibili Che Giustamente Franco Cardini In un suo libro Le ha Definite patetiche Finiscono Nel patetico Chiaramente Le ricerche scientifiche Che ha Illustrato Bruno Barberis Hanno influito Mutando Sensibilmente L'approccio Alla sindone Oggi La questione Se possibile Come ricordava Barberis È ancora più affascinante Nello stesso tempo Di battuta Se si considera Che la maggior parte Di tali studi Pur non avendo Chiarito Le modalità Di formazione Dell'immagine Appaiono Escludere L'origine Manuale A fronte Come abbiamo visto Di una datazione Che pur Con le Obiezioni E con Le critiche Le puntualizzazioni Fatte Parrebbe porre L'origine E questa sindone In epoca Medievale Ci si dovrebbe Interrogare In effetti Sulle Motivazioni Modalità Da un punto di vista Storico Come lo intendo E lo spiegherò Tra poco Per cui Qualcuno Avrebbe dovuto Costruire Un oggetto Così complesso E tutto sommato Così Incomprensibile Per l'epoca Nella quale Appare Oggi la scienza Ma fino Al momento Della fotografia Fino alla fine Dell'ottocento La ricerca Sulla sindone Aveva praticato Soprattutto I percorsi Storici E ancora Prima Dell'erruzione Della scienza Che risale Poi Con le Prime Relazioni Complete Di Delage Paul Vignon All'Accademia Delle Scienze Di Francia Erano Percorsi Di carattere Storico Il Problema Dell'autenticità Rimaneva Diciamo Ridotto A una cerchia Di Dotti E difficilmente Arrivavano A interessare Il grande Pubblico E questo è un punto Assolutamente Fondamentale Storicamente Infatti È stato L'aspetto Devozionale Che più Immediatamente Emerge Dalla Sindone Ad avvicinare Le genti Al sacro Telo E ancora Oggi Le grandi Masse Che si spingono A vedere La sindone Non sono Interessate Questo è Dimostrato Tanto Dalla Risposta All'acquistito Sull'autenticità O meno Ma Rispondono A Un A una Ricerca Di qualche Cosa Di un Volto Di una Figura Dall'ansia Di un Incontro Con una Realtà Che fa Parte Dei più Profondi E reconditi Affetti Del Proprio Animo In questo Senso E quell'anima Della Gente Quell'anima Popolare In senso Nobile Che caratterizza Il tema Della Caste Della Ricerca Già Medievale Che ha sempre Caratterizzato L'anelito Religioso Dell'uomo Dal Pellegrinaggio Dicevamo Medievale Simbolicamente Reso Nel Cislo Arturiano A quella Scienza D'amore Del Dottore Della Chiesa Teresa Delisieux E Tutto Questo Ha fatto Sì Che Dalla Fine Dell'Ottocento Dalla Fine Dell'Ottocento La letteratura In campo Sindonico E' Cresciuta In maniera Impressionante In tutto Il mondo Non Sempre Però Purtroppo La Quantità E la Qualità Queste Noto Vanno Di pari Passo Perché Spesso Il Contenuto Apologetico In positivo In negativo Cioè Apologetico Denigratorio Degli autori Che poi Quello Denigratorio Sostanzialmente E Apologetico Anch'esso In senso Opposto Questo In questo Documenti Di tale Di tale Identificazione Maestro In questo E primo Storico Impegnato In questa Attività E' stato Ulisse Chevalier Tra La fine Dell'Ottocento E i primi anni Del Novecento Quando poi Dovette Smettere Per Dei Precisi Ordini Ecclesiastici Si occupò Di pubblicare Una serie Di documenti Che ancora Oggi Meritoriamente Li pubblicò Che però Ancora oggi Vengono Interpretati Dal punto di vista Storico Come Definitiva Dimostrazione Della Fattura Medievale Della sindone Ne vedremo Tra poco Qualche cosa La storia Insomma E Stata usata Credo Al di là E al di fuori Delle proprie Capacità E delle proprie Possibilità Di Risposta Diventando In qualche modo Vista in quest'ottica Una Ricerca Frustrante Perché? Perché Ovviamente Non possiamo Dire Di avere Dei documenti Precisi Che ci Indichino Un percorso Storico Della sindone Che parte Dal sepolcro Di Cristo E arriva Ad oggi I documenti Storici Continui Cominciano Dalla metà Del quattordicesimo Secolo Prima Ci muoviamo Su altre strade Su altre Ipotesi Che Però Ripeto Diventano Frustranti Se Vengono viste Solo nell'ottica Di una Possibile Problematica Dell'autenticità Io Quando mi sono accostato Alla storia Della sindone Più di trent'anni Fa Anch'io E ho Un po' spinto A questo tipo Di ricerca Ma poi Nel tempo Devo confessare Che mi sono Chiesto Quale significato Potesse avere In generale Lo studio Sulla sindone E in particolare Sulla storia Della sindone Io adesso dico Una cosa Che ho già detto Altre volte E che Non mi ha Attirato Molte simpatie Ma Io Non faccio Nessuna fatica Ad ammettere Il poco fascino Come storico Che eserce su di me Il problema Dell'autenticità Che mi interessa E mi Intellettualmente Mi stimola Per quanto riguarda In particolare L'aspetto storico Io voglio ricordare Sempre L'affermazione Di Paul Vignon Nel 1902 Che a proposito Della ricostruzione Lui era comunque Uno scienziato A proposito Della ricostruzione Della storia Della sindone Per chiarirne L'origine Disse Se fosse Solo Per la storia Non ci metteremmo Nemmeno in cammino E oggi Non siamo Tanto lontani Ma io credo Che se un senso Può avere La ricerca Sulla storia Della sindone Questo va Visto Nello studio Del ruolo Che essa Ricoperso Nel complesso Scenario Della storia Dell'uomo Per questo Una storia Nella storia E a loro volta Così Molti accadimenti Relativi Intorno alla sindone Potranno essere Spiegati Solo attraverso La conoscenza Di quella storia Io Di questo Ne sono convinto E poi sono stato Profondamente confortato Da Una frase Di quello Che è il maestro Di tutti noi Il grande André Vosce Che disse Per lo storico Traduco dal francese In effetti La questione Non è Di sapere Se questa O quella Reliquia È autentica O no Ma Invece Di comprendere Perché Le si ha creduto O si ha creduto Nella autenticità E quale Efficacia È stata Loro O a lei Attribuita È una Soluzione Bellissima È una Frase bellissima Che Compende In sé Tutta una storia Di ricerca Io Mi occupo Io sono nato Come storico Del diritto Poi studiando I processi Di canonizzazione Medievali In particolare Di Chiara Di Montefalco E avendo Già una base Di studi Sulle Fonti Franciscane Mi sono Sono deviato Verso Una branca Un po' Particolare Che è la storia Della pietà Di cui fu Antessignano In Italia Don Giuseppe De Luca Troppo poco Ricordato Io credo Che forse Consiglierei L'Amblosianeum Magari una volta Di fare Un approfondimento Sulla figura Sulla figura Di questo sacerdote Che Ha portato Un nuovo vento Di ricerca Di metodologia storica Nella storia Della chiesa Alla vigilia Alla vigilia del concilio Lui Lui Delle cose Delle cose più Minori Delle espressioni Popolari E ha fatto Un lavoro Assolutamente Straordinario Ecco Sulla luce Di tutto Questo Io Credo Che Per il credente Da sempre E questo è Un po' Un fil rouge Sotto la storia La presenza Della sindone Tra gli uomini Debba essere letta Come un piccolo Ma non insignificante Frammento Del grande disegno Providenziale Di salvezza Quindi Io credo Che sotto Questo aspetto Lo studio Della storia Della sindone Debba essere Lo studio Di come Un Pur piccolo Frammento Come la sindone Abbia nel tempo Assolto questo ruolo E come abbia inciso Sugli uomini Che ne sono venuti A contatto Questo approccio Però non è fine A se stesso Ma può rappresentare Un metodo Di giudizio Per valutare Le potenzialità Ecclesiali Della sindone Perché quel piano Providenziale Continui A riprodurre I suoi frutti Mi ha aiutato Molto In questo Lo studio Che sto facendo Sulle Fonti Relative Ai Panegirici Alle omelie Sulla sindone Che Sono state Spesso Trascurate Magari Studiate Più dal punto Di vista Letterario Siamo in epoca Soprattutto barocca Meno studiate Dal punto di vista Pastorale E teologico Dove invece Ci danno Immediatamente Conto Del modo Di presentare La sindone E di come La sindone Ha potuto Entrare Nella vita Della chiesa E degli uomini Non è raro In questi Testi Il passaggio Dalla visione Del cadavere Martoriato Sulla sindone Alle catechesi Sulla morte Di Cristo E da questo Alla risurrezione Che non è mai Assente Bisogna ribadirlo Anche nel medioevo Con collegamenti Sempre più Marcati Al mistero Eucaristico Il La sindone E Capace Anche Di collegare Cosa che sarà Importantissima Nel periodo Della Riforma Cattolica E di cui Un alfiere Sarà Il vostro E nostro San Carlo Borromeo Che Tanto ruolo Ha avuto Nello sviluppo Del Del culto Della sindone Il riferimento Alla scrittura È Fondamentale Diciamo che La cosa Più Importante Da dire Che Nella sindone Nell'approccio Alla sindone Il punto Fondamentale È quello Della immagine Che essa contiene Il fatto Che sia una Reliquia Che venga Considerata una Reliquia E il rapporto Tra immagine Reliquia E quello L'equilibrio Tra il concetto Di immagine E il concetto Di reliquia È quello Che nel tempo Costituirà Un Punto Di riferimento Dell'approccio Dei fedeli Della chiesa Alla sindone È fondamentale Ma il termine Reliquia Tutto sommato Serve soltanto Aspetto Di reliquia A corroborare La forza Dell'immagine Anche quando Nel seicento In pieno Proprio Rocco Settecento Si insiste Sull'autenticità Della sindone Quasi subito Si corre poi Al ruolo Dell'immagine Che è quella Che più Trasmette Qualche cosa Perché Dobbiamo renderci Conto Di un fatto Che Anche oggi La sindone È certamente Un'immagine La connotazione Come immagine È immediata Cioè appena La vedo Il lenzuolo Colgo l'immagine Ed è un rapporto Indiscutibile Cioè nessuno Può negarlo È oggettivo Quell'immagine C'è E per chi Conosce il Vangelo Quell'immagine Rimanda al Vangelo Quindi questo è certo Forse è anche una reliquia Ma la connotazione Di reliquia Non è Come l'altra Oggettiva Indiscutibile È mediata Perché c'è bisogno Di quegli studi Che ha illustrato Prima Il professor Varberis E poi È critica Perché Ciascuno di noi Deve Valutare Farsi La propria opinione Relativamente A quanto Gli studi Hanno Fatto Emergere D'altra parte Ricordiamo Che già Nel Settecento In uno scritto Piuttosto Particolare C'è una frase Che dice Alla fine Anche se non si trattasse Del vero sudario Nel quale fu avvolto Il corpo di Cristo È sempre Una toccante Immagine Del Salvatore Che ci conduce A onorare Molti Dei suoi misteri Ed è la ragione Per cui Il cardinal Ballestrero Ingiustamente Vituperato Per questa frase Dopo Aver comunicato I risultati Di Carbonio 14 Disse Che per la chiesa Rimaneva Una Veneranda Icona Intendendo Richiamare Con questo Forse Della sua Esperienza Carmelitana Non La banalità La banalizzazione Del termine Icona In senso occidentale Di un dipinto Ma di un qualche cosa Che ha un profondo Significato Di collegamento Con il prototipo A cui fa riferimento Io Fino a un certo punto Quindi Come dicevo prima La Sindone La storia della Sindone E' stata divisa In due grandi periodi Che erano sempre legati A questo problema Dell'autenticità Un primo periodo Dal sepolcro Al 1200 1300 In cui Si dice Bisogna cercare Non c'è una storia nota Mai allora Tutte le teorie Edessa Manoscritto Praia Eccetera Eccetera E poi La seconda parte Dal 14 secolo in poi Dove la storia E' nota E' conosciuta Io credo Che relativamente Al primo periodo Si debba dare Per assodato Che abbastanza presto Ma molto presto Incomincia A circolare La notizia Della conservazione Tra le reliquie Del passaggio Di Cristo in terra Del suo corredo funerario Compresa la Sindone In quanto citata Nei Vangeli Ricordiamo Che le reliquie Che compaiono Sin dall'inizio E che poi si moltiplicheranno Nel Medioevo Hanno tutte Un'origine evangelica Cioè sono tutti oggetti Che sono citati Più o meno Visibilmente Nel senso Più volte O in maniera Più evidente Nel Vangelo Così abbiamo La Sindone Come anche Compariranno poi Nel Medioevo I dadi Con cui I soldati Hanno tirato a sorte La tunica di Cristo Ma su questo Farebbe un discorso Molto più ampio Da fare Che possiamo Pagliare e riprendere Ma non in questa sede Quindi La Sindone È citata Ad un certo punto Paiono esserci notizie Che collegano Le immagini di Cristo Che cominciano a circolare Ad una Sindone Quindi La possibilità Che esistesse Una Sindone figurata Accanto a queste immagini Di Cristo Oggetto Di grande venerazione Ma È su questo termine Sulla venerazione Che io credo Si apra Una nuova prospettiva Se non esistono documenti In grado di identificare La Sindone di Torino Con quello Quelle citate Nell'antichità Che purtroppo Non esistono C'è un legame fortissimo Ed è fondamentale Che è quello Della storia Della devozione La Sindone In qualche modo È un punto di arrivo Di un'altra cast La cast La ricerca Del volto di Cristo Una ricerca Che comincia Dopo che Si è In qualche modo Canonizzata Con Calcedonia Che è La fine Di questo percorso La realtà di Cristo Vero uomo Andiamo alla ricerca Del suo volto Delle sue fattezze E allora ci sono Tutti questi oggetti Il mandilion La veronica Il santo volto di Lucca E la Sindone Che è in qualche modo Il finale Dopo della Sindone Difficilmente Anzi impossibile Trovare qualcosa Di più preciso E di più completo Quindi Nella mia prospettiva Credo Che la storia Della Sindone Non sia altro Che la storia Della pietà Verso un oggetto Che nello stesso momento È ritenuto Immagine Come abbiamo detto E anche Reliquia Immagine Reliquia di Cristo Nel momento Culminante Del mistero Dell'incarnazione Partecipe dunque Della storia Della devozione Verso elementi Cardini Della fede Quindi Bisogna Ribaltare La prospettiva La devozione La pietà Verso la Sindone Eredita In un certo senso Diventano Il paradigma Di tutta una tradizione Della Chiesa Sin dai primi secoli Dalle catechesi Di San Cirillo Di Gerusalemme Alla difesa Delle immagini Di Giovanni Damasceno Alla devozione All'umanità Di Cristo Connotate in particolare Dalle figure Di San Bernardo E ovviamente San Francesco Dopo l'anno 1000 Alla sistematizzazione Tridentina Fino Alle nuove Prospettive Delineate Da San Giovanni Paolo II Nel 98 E poi Da Benedetto XVI E la storia Della Sindone Quindi o meglio La storia Della venerazione Della Sindone Che è la vera essenza Della storia Della Sindone Fa parte Della più ampia Storia della Chiesa Della storia Della pietà In seno ad essa Sia spontanea Sia codificata Entrando quindi Nel campo Della liturgia Ora Detto questo Dobbiamo tenere conto Che la Sindone E mi avvio la conclusione Non è Autoreferenziale E questo Anche questo Mi Fece scontare Una serie di Accuse La Sindone Ha due punti Di riferimento Ben precisi Essendo un'immagine Ha bisogno Di essere vista E guardata Guardata Con gli occhi Del corpo Ma anche Con gli occhi Dello spirito Una qualsiasi immagine Se non è guardata Non può esplicare Il suo effetto Quindi ha bisogno Di chi la guarda Ha bisogno Degli uomini E in questo senso La storia Della Sindone È la storia Degli uomini E delle modalità Con cui gli uomini Sono venuti Incontro ad essa Ma dall'altra parte C'è Cristo Se la Sindone Non fosse un riferimento Ai Vangeli E alla figura Di Cristo La Sindone Come ha detto Un teologo Semplicemente Non sarebbe Sarebbe un qualcosa Di un museo Interessante Di una figura Di qualcuno Eccetera Quindi Questo ponte Che è la Sindone È il ruolo Che gli dà la storia La Sindone Ha passato Epoche Culture E crisi Senza mai smettere Di avere un significato E di portare un messaggio È sempre Lo stesso messaggio Lo troviamo Nel periodo medievale Nel quale è fondamentale L'importanza E lo sviluppo Della devozione All'umanità di Cristo Io Credo che Sulla Scia Di Leopold Genicò Possiamo partire Da quel periodo In cui si colgono Il mezzogiorno Della cristianità Lo chiama In cui si colgono I primi frutti Della riforma Di Gregorio VII In questo periodo Siamo nel 300 La Sindone È meramente tollerata Abbiamo una serie Di documenti Che erano stati trovati Dallo Chevalier Che ancora oggi Vengono invocati Per dimostrare L'origine manuale Della Sindone E qui si dimostra Un po' Un limite Della ricerca storica Nel senso che Questi documenti E qui dovremmo fare Una lunga discussione Di diplomatica A partire Dal Mabion Fino ad arrivare A bloc E alla psicologia Della testimonianza Questi documenti Non testimoniano Né a favore Né contro L'autenticità Della Sindone Laddove un vescovo Dice Che la Sindone È stata dipinta E un Papa Dice Trattiamola come Immagine E non come Reliquia Abbiamo Una posizione Che va Interpretata Alla luce Di quell'epoca Alla luce Di quel momento Ma va anche Interpretata Alla luce Di quelli Che sono I riscontri Che la ricerca Scientifica Dà sulla Sindone Se la Sindone Non è Una pittura Sicuramente Le parole Le affermazioni Di un documento Medievale Che dice Che qualcuno L'ha dipinta Vanno riviste Ma non Nel senso Che questo vescovo Dicesse Delle cose false Perché probabilmente Era convinto E la famosa questione Che un documento Può essere Autentico Ma Contenere Delle notizie Non rispondenti Alla verità E questo Non necessariamente Per malafede Come anche al contrario Possono esistere Documenti Falsi O falsificati Che contengono Notizie Peraltro vere Ora Non voglio entrare In questa argomentazione Oltre però Ci tenevo A dire Che è sbagliata La posizione Per esempio Di qualcuno Anche nel mondo scientifico Che dice Perché indaghiamo Ancora sulla Sindone Quando un vescovo Del quattordicesimo Sicolo Ha detto Che la Sindone Non è autentica No Andiamo a capire Perché l'ha detto In che contesto Lo ha detto Segue poi Un periodo In cui la Sindone Venuta nel 1453 In mano A Savoia Riceve Una sua sistemazione Istituzionale Ma anche All'interno Della Chiesa Con la concessione Del culto pubblico Che non è L'autenticazione L'autenticazione Della Sindone È semplicemente Un modo Per indirizzare Il culto E la devozione Verso un fine Ben preciso Evitando Sbordamenti In superstizioni O devozioni Sbagliate E quindi Il periodo Della presenza Accettata E del culto Ammesso Arriviamo poi Al concilio di Trento Alla riforma Dove veramente La Sindone Per opera Di grandi figure Tra cui Ricordo ancora una volta San Carlo Ha Influito Ed è entrata Veramente Nell'interno Della pastorale Della Chiesa Perché ben Si attagliava Alla Esigenze Di riforma E purificazione Schiaturite Dal concilio Di Trento Anche la dinastia Proprietaria In questo periodo Fa un grande Sforzo Di Conoscenza Della Sindone Ma ricordiamocelo Sempre Che Chi ha tenuto Viva La vita E la devozione Alla Sindone È stato il popolo Di Dio Anche quando Dal settecento In poi Comincerà All'epoca Della Flarum Cattolico Alcune voci Critiche Per poi Arrivare Alla crisi Modernista Eccetera Sarà sempre Il popolo Che Al di là Al di fuori Disinteressato Dalle critiche Elitarie Perché poi Parliamo sempre Di critiche Elitarie Continua a cercare Quel volto E quel corpo E quel corpo E con questo Io Concludo Dicendo Che la ricerca Storica Sulla Sindone Può e deve Procedere In questo senso Spogliandosi Delle convinzioni Personali Relative All'origine Di questo Lenzuolo Come ho cercato Di fare io Coscienti Che la discussione Aperta E che ciascuno È chiamato Ad essere giudice Per se stesso Circa le conclusioni Da trarre Dall'impressionante Mole Di dati Scientifici Raccolti Negli anni Il Papa Ci ha ricordato Più volte Che la sindone Non è Ovviamente Un articolo Di fede E quindi La chiesa Non ha nessun Dovere Di eridersi Il giudice Della ricerca Compiuta Su di essa D'altra parte Essa Ha tutto Il diritto A indicare In quell'immagine Un oggetto Che come Sanci il concilio Di Nicea II Precisando Una dottrina Del culto Dell'immagine Che è immutata Sino ad oggi Ripresa anche Dal Vaticano II Che La sindone È venerabile Privatamente Liturgicamente In quanto L'onore Attribuito All'immagine Passa al prototipo E chi venera L'immagine Venera la persona Che questo Rappresenta Per questo motivo La sindone Allo stato Di oggi È un oggetto Che la storia Ci tramanda Come un grande Oggetto Di devozione Per aiutarci Ad accostare Ai misteri Fondanti Della fede cristiana La sua Incarnazione La passione La morte Ma anche La risurrezione Grazie Grazie mille Professor Zaccone Allora È importante Come leggere Questa immagine Con che occhi Leggere L'immagine Della sindone E mi è piaciuto Molto Il concetto Del popolo Di Dio Questa immagine Appartiene Al popolo Di Dio Indipendentemente Dalla sua Autenticità Credo che L'argomento Verrà ripreso Anche Da Monsignor Giuseppe Ghiberti Che è Presidente Merito Della Commissione Della Sindrome Della Diocese Di Torino Teologo Biblista Presidente dell'Associazione Biblica Italiana Membro Della Pontificia Commissione Biblica Presidente Onorario Della Commissione Diocesiana Per la Sindone Assistente Ecclesiastico Del Centro Internazionale Di Sindonologia E Soprattutto Uno Dei Massimi Esperti Mondiali Del Telo Di Torino Monsignor Ghiberti Della Sindone Un caro saluto agli ascoltatori e ai presenti a questo discorso Incomincio subito Un discorso sulla Sindone necessariamente deve prendere l'avvio dalla constatazione della immagine che essa mostra e che la caratterizza credo che si possa dire senza tema dismentita che a tutt'oggi quell'immagine si viene incontro come un unicum che continua a nascondere non pochi misteri Rinuncio alla tendenza di dimenarci per individuare presenze di analogie che offrono somiglianze illuminanti e sono convinto che ogni tentativa in questo senso è andato fallito, con tutto il rispetto per i molti ricercatori che vi si sono impegnati. E' più realistico muoverci nella consapevolezza dell'unicum che ci sta dinnanzi, anche se non ne conosciamo natura e cause. Il lettore o l'ascoltatore vogliono prenderla in partenza come ipotesi di lavoro. Un telo fine su cui si vede la presenza di una figura umana, adesso lo sanno tutti, attestante a modo suo vicende uniche causanti la morte, ci chiede anzitutto l'impiego della massima diligenza per la conservazione nel rispetto di tutte le condizioni che possiamo individuare con l'aiuto delle attuali conoscenze della scienza per evitare ogni rischio di danneggiamento. E' una realtà che ci stupisce come si è giunta fino a noi e come possa affrontare in modo rassicurante un futuro un po' traballante. Ogni epoca porta una propria responsabilità per l'impegno della sua conservazione. Una prima richiesta che giunge da quel telo è allo sforzo di una interpretazione di base della immagine. È innegabile la presenza di una figura maschile, nuda, deposta sul lenzuolo in condizione post-mortem, a morte avvenuta. Questa lettura è abbastanza elementare e non mi pare che possa essere fatta oggetto seriamente di contestazione. La causa della morte è attribibile con altissima probabilità, confinante con la certezza, alla tortura della crocifissione. Nella misura in cui si accetti questa indicazione ci si apre ad alcuni orientamenti interpretativi. Capo e volto sono stati fatti oggetti di battiture di ogni genere, soprattutto per la molteplicità in contemporanea delle lesioni sulla testa. Il torso in particolare, la schiena, le gambe, ha subito la tortura distruttrice della flagellazione. Le mani e i piedi sono stati trapassati da un corpo appuntito che si può chiamare chiodo. La parte sinistra del petto è stata trafitta da un corpo alama che ha raggiunto la zona cardiaca. Il capo è stato torturato da una copertura a casco, ospitante punte accuminate assai numerose, che hanno causato versamenti di sangue riscontrabili a partire dal cuoio capelluto, fin sulla fronte e sulle guance. Il sangue è il melanconico re della situazione. E ne deduciamo a volte la presenza nella condizione precadaverica del condannato e a volte nella condizione post-cadaverica di sangue, cioè messo a decesso avvenuto. La storia degli studi sindonici non registra un'accettazione totale di questa lettura, ma a me sembra che essa si muova in un ambito di reale oggettività, tanto da non poter essere contraddetta, mi sembra. Ciò autorizza a continuare su questa pista nel tentativo di dare un nome a questa tortura a esito letale. Mi sento di parlare di crocifissione. Certo rimangono problemi assai pesanti, ma l'immagine ha reso un primo importante servizio. E la conseguenza è davanti agli occhi di tutti. Da secoli questo oggetto è venerato per un rapporto unico con la crocifissione di Gesù, nella convinzione che questo lenzuolo abbia accolto il cadavere di Gesù nella deposizione dalla croce. Non per questa convinzione da sola dobbiamo ritenere che questo evento si sia davvero realizzato, ma perché nella ricerca degli indizi molti elementi concordano in quella direzione, al punto che l'attenzione a quelle ipotesi mi sembra obbligata. Passerei al secondo punto, l'evento. Dal reperto l'attenzione è invitata a portarsi su ciò a cui l'immagine rimanda. Già chi pensa che quella figura non abbia nulla a che fare con la vicenda della morte di Gesù di Nazareth, sente che la sua ricerca non si arresta a un giudizio cronologico e di scienze naturali. Una morte in croce, per di più così rappresentata, non può non suscitare domande di ogni genere, ma tanto più ci si accorge che proprio ora incomincia un lavoro aperto su un doppio scenario. Anzitutto, quali furono le cause di un tale evento? È il momento in cui si entra necessariamente nella vicenda del rapporto di ogni cercatore con quel protagonista Gesù, che a questo punto non si può più evitare. Poi restano ancora numerosi problemi riguardanti la vita del tempo di quei fatti e altri riguardanti i problemi di oggi che non possono distanziarsi da quell'evento tanto unico quanto inevitabile. Quando si sia acquisita una buona sicurezza sul fatto che all'origine della sindone sta una crocifissione, è d'obbligo la ricerca sul protagonista, il protagonista passivo, di questa tortura. Sono numerosi gli studi che dimostrano la coincidenza dei particolari fra le descrizioni della crocifissione di Gesù e quella dell'ancora ignoto uomo della sindone. Non le riprendo, ma penso di poter affermare che le coincidenze fra le due narrazioni offrono un esempio che non è possibile ignorare. Coincidenza non è ancora identità, ma nel nostro caso rende assai pensosi il fatto che non è noto alcun altro caso di simile coincidenza. Sembra dunque sensato ricorrere al passaggio dall'una all'altra narrazione, per venire a capo del racconto, del messaggio dello strano reperto antico e, speriamo, del protagonista dell'evento presentato sul telo. Ed è così che all'improvviso l'evento acquista nome e motivazione. Si assottiglia forse il numero di quanti sono disponibili a questo passaggio, che pure prende l'avvio dalla ricerca scientifica, ma il discorso diventa coinvolgente anche per la vita del ricercatore. L'amabile uditore e lettore mi permettano un passaggio di accostamento diretto del racconto evangelico contenuto in quattro formulazioni che si compensano mutuamente. Una, Gesù morto per la crocifissione viene per particolare permesso di Pilato, schiudato dalla croce e portato nel sepolcro che un amico ha messo a disposizione. Due, per la sepoltura vengono usati teli funebri, che nella descrizione di Marco, Matteo e Luca sono principalmente una sindone. Giovanni parla invece di teli, che con un plurale di genericità non sembrano costituire un contrasto con la terminologia degli altri tre. Tre, questo telo è ancora presente nel sepolcro dopo che Gesù risorto si è allontanato, lo notano Pietro e Giovanni, i primi degli apostoli, ad avere un'esperienza della tomba vuota. E diventa, in certo senso, il primo testimone della sua risurrezione. Quattro, tanto che Giovanni, vedendolo, inizia il cammino di fede che la passione e morte avevano reso tanto difficile. Ma continua a essere testimone anche per noi. Il parallelismo dei due racconti, sindone e Vangeli, si arresta qui. I Vangeli non parlano dell'immagine di Gesù morto, impresso sul telo. E una delle possibili spiegazioni potrebbe essere il fatto che il retro della sindone è anche oggi totalmente privo di immagine. Non si ricorda neppure l'uso che si è fatto del telo. Incomincia la ricerca nel grande buio. A proposito però della presenza di fonti di informazione sugli eventi che hanno accompagnato la fine della vita di Gesù, è necessario spendere una parola sulla necessità di mantenere una costante distinzione fra la tradizione iconografica, le pitture, le sculture, e i dati del nostro reperto. Questa tradizione iconografica ha origini da fonti diverse che possono essere ricordi storici o per lo più convinzioni simboliche che influiscono sulla rappresentazione dell'evento, visto nel suo significato e non nel suo accadimento. Peraltro conosciuto con un'approssimazione di scarsa affidabilità. Un'altra distinzione non meno importante occorre mettere in atto sistematicamente tra i vari tipi di notizie che ci informano sui particolari dell'evento della crocifissione. La sindone può solo confrontarsi con le informazioni dei Vangeli. È notorio che di una tortura così largamente praticata per un lasso di tempo non breve, parlare di un millennio di ricorso alla crocifissione non è esagerato, anche se nell'era cristiana la prassi si ridusse abbastanza presto, fino a quasi scomparire. Le informazioni sui particolari della sua applicazione sono abbastanza scarse. Tanto più diventa indicativa la somma di informazioni che la sindone può offrire a conferma o chiarificazione della vicenda finale della vita di Gesù. Ma questo, importante e interessante, si arresta sulla soglia della massima probabilità e, nell'ambito delle qualifiche e delle conclusioni, può offrire una conferma o d'orientamento nella selva dei tentativi. Non è però conclusione da poco. La storia della sindonologia ha assistito ai più vari coinvolgimenti di vita da parte dei ricercatori della sindone, ma non sarebbe giusto se limitassimo la nostra attenzione al campo dell'osservazione scientificamente preparato. A modo suo, misterioso, la sindone dialoga con chiunque la incontra. Il nostro stesso incontro, che si realizza a brevissima distanza dalla singolare ostensione televisiva della sera del sabato santo, ne è una dimostrazione. La sindone è contemplata nella sua eloquenza silenziosa, nella sua chiarezza di testimone muto di una sofferenza che non sembra trovare motivazione. Testimone partecipe, dato dal passato, è presente oggi in ogni incontro, nell'accoglienza della volontà del Padre che vuole in Lui salvare il mondo intero, ognuno di noi. Non posso parlare del significato che vedono nella presenza della sindone, in particolare nel frequente coinvolgimento vitale del ricercatore, quanti negano radicalmente un eventuale riferimento alla vicenda finale della vita di Gesù. La sindone, mi sembra che pensi, sarà un mistero non facile da spiegare, ma è di fattura più o meno recente, da affiancare a tanta sofferenza, purezza commovente e inspiegabile. Per ogni altro, un dolore, in particolare un dolore come quello, porta a un intervento di grande peso nel coinvolgimento di ogni vita. Personalmente sono stato molto impressionato dal modo come scienziati di straordinaria fama si sono lasciati coinvolgere dalla contemplazione di quel mistero. Il mio ricordo va con particolare affetto al lavoro che ci è stato concesso di svolgere con il chimico ebreo Alan Adler, che sorella morte vennerà a piacere tanto presto. Molte delle decisioni prese per le varie modalità di un nuovo sistema di conservazione sono proprio dovute a suggerimenti suoi che egli ci dava con partecipazioni e viaggi, di cui si caricava lui stesso il peso delle prestazioni. Questo sistema continua a funzionare anche adesso, ma credo di poter dire che è tutta la storia della gestione della sindone tra di noi che attesta questa passione. Nella riflessione di questo momento penso che costituisca un fatto di valore non occasionale o superficiale questo schieramento di studiosi professionali per una interpretazione positiva della realtà sindonica. Di per sé è vero che non è determinante la presenza di masse di persone per attestare l'importanza del motivo che le muove. Non è una partita di calcio, un incontro per la presenza di un cantautore, una partecipazione a un raduno politico che dimostri la verità delle cause che sono all'origine di quell'assembramento di popolo. Ed è possibile il fanatismo anche per la sindone, come per ogni motivazione di interesse. Occorre l'onestà di chi fa la proposta e anche nella religiosa è possibile partire senza prudenza o conoscenza sufficiente, o coraggio di attestare la verità al di sopra di altra apparenza o interesse, è ciò che ci proponiamo di non dimenticare mai nel nostro povero lavoro sindonico. Per concludere, la conclusione a queste riflessioni passa al campo dell'esperienza personale che solo parzialmente può essere comunicata. Anzi, proprio in questo momento esce dal campo dello strettamente dimostrabile. Soprattutto non rende facile essere creduti. È poi quasi utopistico cercare di individuare una posizione equilibrata, perché è normale che venga giudicata di comodo, di compromesso, di cedimento all'altra tendenza. Da destra viene l'obiezione che si sta accedendo allo spirito protestante o si fa l'occhiolino alle posizioni razionaliste, illuministe o massoniche. È solo questione di fantasia. Da sinistra, che non si osa dire quel che si pensa o si continua a corteggiare la posizione dei fondamentalisti, magari con operazioni di potere equivoche. Non posso parlare a nome di nessuno, posso solo dire come vedo le cose io in un campo che per fortuna concede tanta libertà. Amo la sindone, perché mi parla di Cristo, del suo amore, di quanto di Lui mi dicono i Vangeli. Più lo guardo, più cresce il convincimento che il rapporto tra quell'immagine e la vicenda finale di Gesù sia strettissimo. Non solo desidero che quel lenzuolo abbia ospitato il cadavere di Gesù deposto dalla croce, ma anche, mi sembra, che nessuna altra spiegazione diversa da questa ne giustifichi adeguatamente le caratteristiche. Non bisogna però seguire gli stimoli della fantasia. Mi accadeva, mentre tentavo un po' di esegesi della prima parte di Giovanni XX, il sepolcro che accoglie le spoglie di Gesù è vuoto, dentro i due discepoli che sono corsi in seguito alla notizia di Maria di Magdala. È stato apportato il cadavere di Gesù, è andata ad annunciare. Vedono soltanto dei teli funebri, ma senza il cadavere che vi era stato composto. I teli vengono portati via e percorrono un cammino indescrivibile, ignoto. Ora sono qui, davanti a noi, giunti in un ambiente che più occidentale non si può. È credibile, pensabile, sensato, tutto questo? La mente è tesa fra un giudizio di credibilità e l'assurdo, ma la sindone c'è in mezzo a noi, frutto di una storia che ha visto l'alternarsi dell'attenzione devota al nascondimento, forse al disinteresse. Le sorti di un ricordo sono affidate ad una rediviscenza che non sappiamo quanto dura, ma intanto, per questo reperto, i secoli che passano continuano a farne l'eco di una vicenda che è molto più forte della sua debolezza. A questo punto si dividono le strade. Il credente dall'immagine, comunque se sia prodotta, riceve il rimando al sacrificio che l'ha prodotta. Allora anche una debole immagine, grazie al suo mistero, diventa messaggio di vita più impegnativo di ogni procedimento di ragione. Non potrebbe essere utile, almeno in linea di pura ipotesi, confrontare il dato biblico con quello sindonico? Qui, devo dire, è un po' un tasso che pago al lavoro che ho fatto, tra l'altro anche per 40 anni, all'Università Cattolica di Milano. Il mio contatto con il dato biblico. Per vedere quale ipotetico aumento di notizia potrebbe ottenere l'esegesi neotestamentaria e la sintonologia? L'eterno sogno di fare diventare o poter trattare come omogenee, fonte intrinsecamente eterogenee e ciononostante coesistenti per la nostra vita. Grazie. Grazie Monsignor Ghiberti. Io sono convinto che questo suo amore per la sindome verrà trasmesso a molti di noi e a molti di quelli che ci ascolteranno. Grazie mille. È una meditazione quaresimale che si adatta molto nella settimana che stiamo procedendo nel meditare, nel rileggere la passione del Signore. Siamo ormai circa due ore. Volevo chiedere una breve conclusione al professor Di Lazzaro, se è possibile. Sì, grazie professor Ambert Enchi. Beh, diciamo che le conclusioni sono secondo me incredibilmente semplici. Abbiamo ascoltato tre aspetti, tre punti di vista, tre ricercatori del insensolato del termine sulla sindone. Questa è una testimonianza ulteriore, se ce ne fosse bisogno, che la sindone ha bisogno di essere vista da tanti punti di vista per essere apprezzata. E alla fine il messaggio della sindone, che è stato accennato, che è implicito in tutte e tre le relazioni e che mi permetto di interpretare un po' a modo mio, è che la sindone, il discorso se è autentica o non è autentica diventa secondario, non è la scienza, non è la storia che ce lo può dire. Se è autentica o meno ce lo deve dire il nostro cuore. Una volta che ci poniamo di fronte a questo telo, a questo testimone silenzioso, come è stato detto, a questo uomo dei dolori, come è stato descritto, allo specchio del Vangelo, ce ne sono tante definizioni molto pregnanti, ma in definitiva è dentro di noi che dobbiamo cercare la risposta su che cosa è la sindone e non solamente affidarci alla scienza, alla storia o anche all'esegesi. Grazie a tutti. Allora la sindone ha bisogno della scienza e ha bisogno della fede. Il professor Barberis accennava a nuove proposte di studi, a nuove tecnologie e speriamo che questi diventino un po' all'argomento del nostro prossimo e spero incontro, magari il prossimo anno, nella sede di Via delle Ore a Milano. Grazie a tutti, è stato bellissimo e vi ringrazio anche a nome del professor Garzonio che vi ascolterà nella registrazione di YouTube. Grazie mille e buona Pasqua a tutti.